allora ciao ragazzi e benvenuti quest'oggi siamo di nuovo su formula 1 clash sarà un video molto easy perché ci tenevo a farvi vedere una cosa un risultato ottenuto questa settimana ma sarà un video molto easy e mi limiterò a farvi vedere le tattiche la strategia utilizzata e poi il risultato chiaramente allora cominciamo dai piloti chiaramente l'assetto non era questo era questo qua ho utilizzato fernando alonso al 6 e chi mi rai con il livello 8 all'occorrente chi mi rai con il che godeva di un più 10 per cento in questo evento all'occorrenza al loro posto al posto di alonso ho inserito sul bagnato rassal si ho usato questa strategia particolare che mi ha fruttato addirittura un 47 in olanda arrivando primi e secondi con avete capito bene russell e e raikkonen certo se registravo quella cara sarebbe stato spettacolare comunque poi per quanto riguarda invece l'auto ho utilizzato questa volta un carico più pesante con il the wall all'otto il rotor all'otto il blackbird all'otto il paddock al 6 il the hold all'otto e il destroyer al 6 con una potenza di 67 aerodinamica 63 aderenza 66 ed affidabilità 38 tempo sul pit stop quasi tre secondi ma alla fine è una strategia che si è rivelata ottima perché si è rivelata ottima perché no non vado nemmeno allo screen della coppia veloci vedere direttamente da qua perché si abbiamo fatto il primo posto eccolo qua e vi dico che stava diventando un vero e proprio patema sto primo posto in avversario perché come vedete bene beh a parte l'ultima dove ho fatto 10 perché sono arrivato quarto avevo fatto tre secondi posti di fila e poi finalmente adesso è arrivato il primo posto proprio con questo carico aerodinamico più pesante è un tempo di box più basso low pit tattica low pit completamente scartata abbiamo conquistato il primo posto finalmente in avversario adesso vedremo se passare a campione o meno niente volevo semplicemente condividere questa strategia queste tattiche utilizzate con voi formula 1 clash un gioco molto bello che in italia non è portato praticamente da nessuno anzi da nessuno lo facciamo noi per voi e bene direi che per questo video è tutto ragazzi se le dimensioni del video lo consentiranno e non lo so perché il gioco è in verticale come sapete vi lascerò altri video di formula 1 clash e l'iscrizione al canale in descrizione troverete tutti i nostri social e i canali per restare in contatto con noi e un saluto a tutti gli iscritti e agli appassionati di formula 1 clash ciao ragazzi